Another song to play today Well everybody knows that it's not easy to find a way It's just a song for every day Ciao a tutti amici e io sono ancora col nostro Loris DJ di Italian Country Family e continuiamo a parlare di country Allora parlavamo degli Outlaw e parlavamo di questo meraviglioso cantante di cui ci parlavi l'altra volta Why don't... Basta dire il nome e tu ti lo riconosci Comunque se vuoi ti faccio sentire un altro pezzo carino Sì, parliamo di Why don't... Sempre di Why don't you... Esatto Il titolo dice quasi tutto Dice mamme non lasciate che i vostri bambini diventino dei cowboy Ecco, quindi sentiamolo Ti dirò che mi piace molto come voce, come melodie, come tutto Sono davvero molto belle queste canzoni Ecco, fra l'altro in questa canzone lui duetta con Willie Nelson Che è un altro di cui parleremo nelle prossime puntate Comunque sono due grandi artisti, soprattutto Why don't you let your baby grow up in the country Si vede, si vede... Nella puntata precedente mi avevi detto che era fuori dal genere Why don't you Perché era abituato a suonare la sua chitarra, fra virgolette, scordata, non si dice così Ma con le corde molli Esatto E produceva un suono davvero particolare Sì, al limite se vuoi ti faccio sentire un pezzo per farti rendere conto del sound di questo tipo di chitarra Perché con le corde molli aveva una cordatura completamente diversa Un suono completamente diversa da tutte le altre chitarre Ok, dai Te lo faccio sentire Sì Ti può dare un'idea Senti Ma infatti è stranissima Sai che, volevo dirti, assomiglia come tono di voce un po' a Elvis Presley? Sì, è degli stessi anni Ma lui ha una voce da baritono Che su questo sound ci sta benissimo E lui aveva questa particolarità, questo vocione, questa chitarra con un suono particolare Poi il fatto di raccontare dei cowboy, dell'onky tonk Allora io ringrazio DJ Loris per queste altre pillole di saggezza sul country music E su questo meraviglioso Wylon Jennings Esatto E noi ci vediamo per la prossima puntata Ok? Ciao Grazie e buon proseguimento Ciao 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 Ciao